Direi che è fondamentale nel senso che le informazioni sul mercato, sull'andamento delle imprese, sulla crescita sono alla base per un'azienda che vuole stare vicino ai propri clienti, quindi capire gli andamenti dei dati economici, dei dati delle aziende fa capire dove va il mercato. In particolare per quanto riguarda la mia azienda sono i dati relativi alla mobilità, questo un po' perché siamo una società petrolifera e quindi vendiamo l'energia per muoversi.